Ciao, sono Maddalena Bignu, ho 28 anni e vengo da Conegliano in Veneto, anche se da due anni ormai vivo a Roma. Ho iniziato a recitare all'interno della scuola, partecipando poi a vari corsi, workshop, cortometraggi di ruolo di protagonista e quest'anno ho anche recitato in due serie, la seconda stagione della legge di Lydia Poet e la quarta dell'amica geniale. I also speak English, because I'm used to speak English with a lot of people and native speakers, and I also speak Japanese. Veneziano daigakude benkyoshimashitakara nyongo ga dekimasu, che significa che dato che ho studiato a Venezia, parlo anche in giapponese. Mi piace molto anche cantare, studio canto moderno da due anni e mezzo e suonare il violino, soprattutto quello folk. Questi sono i miei profili. E grazie.